Buongiorno a tutti, sono sempre Victor Laslo88 e ragazzi, mettetevi comodi, sorseggiate del tè, del caffè, qualunque bevanda che vi faccia stare rilassati, perché stiamo per addentrarci in un territorio abbastanza insidioso, dal momento che James Gunn e Peter Safran hanno finalmente rivelato parte del loro maxiprogetto per il DC Universe. E credetemi, le cose sono leggermente più complicate di quello che avevo previsto. Quindi, bando alle ciance, iniziamo subito con il capire effettivamente che cosa accadrà. Sigla! Allora, qualche ora fa alle 18, James Gunn ha caricato sul suo profilo Instagram un reel dove ha spiegato che cosa accadrà, che cosa lui e Safran hanno pensato di fare per rinnovare la DC al cinema. Sostanzialmente ha presentato alcuni progetti tra film e serie che faranno parte della prima metà del cosiddetto Chapter One, il primo capitolo di questo progetto, che avrà il titolo di Monsters and Gods. Quindi questo primo capitolo si chiamerà così, e ha iniziato con il dire che il problema dei prodotti DC era che non erano interconnessi tra di loro. Le serie raccontavano storie che non c'entravano nulla con quelle dei film, stessa cosa i videogiochi, le serie animate, quindi l'obiettivo di Gunn e Safran innanzitutto rendere serie in live action, serie animate, videogiochi e film interconnessi tra di loro. Lo avevano già detto, si sapeva che l'obiettivo principale fosse questo, e ha anche detto che ci sono ovviamente dei film che non fanno propriamente parte di questo universo, che devono uscire quest'anno. Quindi si parla di Shazam, Furia degli Dei, di The Flash, di Blue Beetle, e Aquaman e il Regno Perduto, quindi il secondo film con l'Aquaman di Jason Momoa. ha detto che Shazam porterà The Flash, il quale farà un reboot dell'universo DC. Quindi, come si pensava, useranno il film di Flash per creare il nuovo universo. Il film di Flash porterà a Blue Beetle, Blue Beetle porterà a Aquaman, perché a quanto pare loro puntano anche sugli Elseworld. Hanno detto chiaramente che il film di Matt Reeves e tutto quello che gli sta intorno, quindi la serie sul Pinguino, la serie su Arkham Asylum, con il Joker di Barry Keoghan, fanno parte di un Elseworld. Stessa cosa Joker. Stessa cosa il film con il Superman nero, di cui si era parlato tempo fa, che pare sia ancora in piedi. Sono Elseworld. Allo stesso modo, i personaggi come Shazam, come Aquaman, Wonder Woman, e così via, sono personaggi che fanno parte di un Elseworld. Questo significa che, se vogliono, a quanto pare possono rimanere, chi non vuole rimanere verrà recastato. Però questi personaggi vorrebbero recuperarli ogni tanto, se vogliono, contando che è un Elseworld. Questo per me crea già un problema. Io avrei fatto un reboot. Però se vi ricordate, io avevo ventilato l'ipotesi che potessero effettivamente mantenere quei personaggi per utilizzarli ogni tanto. Ed effettivamente sembra che vogliano fare proprio questo. Se vuoi creare qualcosa di nuovo, forse è il caso che il vecchio, che abbiamo capito perfettamente dopo quasi dieci anni, che non funziona, tu lo accantoni completamente. Invece sembra che vogliono tenersi delle strade aperte. E questa è la cosa principale che non ho apprezzato molto di questo progetto, perché mi sembra che si vada a creare della confusione. Dal momento che sembra che vogliono comunque tenere in qualche modo anche il Batman di Keaton, poi in The Flash anche il Batman di Affleck, però vogliono puntare sulla questione dell'universo principale degli Elseworld, quindi magari riescono a farlo nel modo giusto. Vogliono creare questa interconnessione. Non mi convince moltissimo, mi convince molto di più quello che poi hanno annunciato, perché James Gunn ha voluto dirci quali sono i titoli tra film e serie della prima metà di questo capitolo 1. Io ho il mio fido smartphone alla mano, perché ovviamente non è che mi ricordi proprio tutto, 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 ma ci sono delle cose molto interessanti e partirei proprio con i film, perché hanno annunciato dei film non poco interessanti, a partire proprio da Superman Legacy, questo film di cui già sapevamo qualcosa, che sarà scritto da James Gunn e che parlerà di un Superman giovane, appena arrivato a Metropolis come reporter, che però è Superman già da un po' di tempo, non troppo, è un Superman alle prime armi, ma si è già fatto conoscere come uomo d'acciaio. Questo film uscirà nelle sale l'11 luglio del 2025, quindi non lo vedremo tra tantissimo tempo, per cui il vero inizio di questo nuovo DC Universe si aprirà con Superman e intervistato da Hollywood Reporter, James Gunn ha detto che non è che lui abbia licenziato Harry Cavill, Harry Cavill non era stato proprio castato, lui ha voluto mettere bene in chiaro questa cosa, era una promessa che gli aveva fatto Dwayne Johnson, ovvero The Rock, lui non aveva mai castato Superman, lui ha detto io ho una visione specifica di Superman e per quanto mi dispiaccia ammetterlo, questa visione non riguarda Harry Cavill, perché il discorso sugli altri personaggi valeva per Shazam, Wonder Woman, eccetera, Superman non viene più preso in mano quello di Cavill, anche se è un Elseworld, proprio perché vogliono puntare su Superman per il nuovo universo, che è un discorso che in parte non è che abbia tutto questo grandissimo senso se ci pensate, alcuni li teniamo nel caso in cui ci venga voglia di fare una capata in quell'universo, ma Kevin no perché abbiamo il nostro Superman per il nuovo universo, è un po' assurda come cosa, ok? Non mi fa impazzire, devo essere sincero, più che altro crea una certa confusione, alcuni sì, lui no, però sono fiducioso circa l'idea di iniziare l'universo con un film di Superman perché è anche simbolico, l'universo che tutti conosciamo e che non ha funzionato è iniziato proprio con Man of Steel, chissà che questa nuova versione di Superman più giovane e si spera più solare e simile al personaggio dei fumetti non possa magari dare delle grasse soddisfazioni, io, devo essere sincero, ci spero tantissimo. Tra l'altro hanno ribadito ancora una volta che non si tratta di una origin story perché quel Clark Kent è già Superman quando il film prende piede quindi sarà una cosa un po' diversa rispetto al solito. abbiamo visto il Superman adolescente in Smallville abbiamo visto un Superman ancora diverso con i film di Donner abbiamo visto la versione di Zack Snyder con Eric Cavill e adesso ci sarà una versione con un attore che ancora non sappiamo chi sia però Gunn ha detto che il film lo sta scrivendo se contano di farlo uscire veramente l'11 luglio 2025 non penso che entrerà in produzione tra troppo tempo quindi nei prossimi mesi dovremo già sapere qualcosina suppongo circa il personaggio poi un altro film che è stato annunciato è The Authority che è un super team della della label Wildstorm che inizialmente avrebbe dovuto avere un adattamento ma con un inserimento in un Elseworld quindi non nell'universo principale a quanto pare Gunn e Safran hanno deciso poi di fare un film che faccia parte effettivamente di questo capitolo 1 e è un super team non molto conosciuto perché l'idea che ha voluto dare Gunn insieme a Safran è proprio quella di utilizzare personaggi forti come Superman per spingere altri personaggi non particolarmente conosciuti ed è la specialità di James Gunn rendere iconici personaggi che il grande pubblico non conosce più di tanto lui ha detto che tutti i personaggi che hanno scelto fanno parte della sua infanzia e sono tra i suoi preferiti quindi li ha scelti per questo motivo The Authority è un super team di personaggi che per proteggere il pianeta a volte usano metodi non proprio ortodossi fino ad arrivare a fare cose considerate immorali perché il fine giustifica i mezzi è audace presentare come secondo film del progetto un team di supereroi non molto conosciuti molto controversi perché c'è già la Suicide Squad essendoci già la Suicide Squad avendo visto come Gunn ha trattato la Suicide Squad non vorrei che fosse una ripetizione è anche vero che Gunn non ha detto che dirigerà lui il film quindi avrà probabilmente una direzione artistica differente e va anche bene per l'amor del cielo è audace è una scelta che mi piace proprio perché non è quello che mi sarei aspettato e quindi mi va bene così perché i progetti che hanno annunciato per questo capitolo 1 mi piacciono non mi fa impazzire quel concetto di mantenere l'Else World peraltro comunque questa è la prima parte del capitolo 1 e non c'è nessuno dei personaggi del vecchio universo quindi se mai dovessero utilizzarli sarà eventualmente più avanti questo va detto attenzione poi e questo è uno dei progetti che mi interessano maggiormente The Brave and The Bold sarà un film che vuole introdurre la Bat Family estesa quindi troveremo alcuni membri della Bat Family ma i protagonisti veri e propri saranno il Robin di Damian Wayne figlio di Bruce e proprio il padre quindi Bruce Wayne nei panni però anche di Batman ed è ispirata al ciclo Batman e figlio di Grant Morrison e questa cosa non può che farmi piacere Gunn ha detto che scopriremo che Damian Wayne è un piccolo figlio di puttana nel senso che è un pezzettino di merda un personaggio molto particolare chi ha letto i fumetti sa che Damian Wayne ha il suo carattere però come Robin a me piace tanto e quindi questo cosa vuol dire che The Batman avrà per l'appunto il suo universo con quello di Matt Reeves ma contemporaneamente vedremo anche un nuovo Batman probabilmente sui 40 anni visto che c'è già Damian e parte della Bat Family è interessante sicuramente però hai il Batman di Reeves hai questo Batman e poi c'è quello di Keaton e poi c'è quello di Affleck anche con la scusa degli Elseworld ma quanti Batman vuoi avere sullo schermo ho capito che dici eh ho capito ma sono altri universi sì ma non si rischia di incorrere ancora nel pasticcione che si era fatto fino a poco tempo fa ora io mi fido tantissimo di James Gunn quindi sono contento del fatto che sembri avere le idee chiare sul chapter 1 e sul resto che secondo me avrebbe dovuto magari limare le cose però l'idea di avere un adattamento su The Brave and the Bold eh ragazzi a me comunque piace capisco che possa crearsi della confusione eh su quello da quello non si scappa c'è poco da fare poi Supergirl Woman of Tomorrow sarà una storia che si ispirerà al ciclo di Tom King su Supergirl che esplorerà la storia di Cara Zorrell la cugina di Superman che ha avuto un destino diverso rispetto a al cugino perché lei ha vissuto in un frammento di Krypton che si avrà vissuto la dovrebbe essere la città in bottiglia se non sbaglio e vagando nello spazio ha assistito a orrori oltre l'immaginabile quindi è una storia che vuole dimostrare come personaggi simili seguendo strade diverse arrivino ad essere due diversi tipi di eroe e mi piace l'idea mi chiedo chi sarà ad interpretarla ovviamente sugli attori non sappiamo nulla ad esempio i fan dopo aver visto una fanart su Superman che vedeva come protagonista Giacobelordi che è il Nate di Euphoria hanno iniziato a chiedere a gran voce che sia lui il nuovo Superman ma non è neanche un rumor è una richiesta di fan se voi vedete Giacobelordi pensate cazzo è effettivamente perfetto anch'io vorrei Giacobelordi però questo non vuol dire che lo sceglieranno per Cara il casting non so quanto sarà facile io spero che puntino su attori giovani non troppo conosciuti ad esempio un Giacobelordi può andare bene perché si è conosciuto per Euphoria però tanti non sanno chi sia ancora quindi magari attori che hanno fatto qualche che hanno avuto qualche ruolo in varie serie ma che ancora non hanno potuto dimostrare quanto effettivamente valgano come attori qui c'è bisogno come si suol dire di sangue nuovo che cerchino sangue nuovo cioè questo secondo me è il concetto abbiamo anche il film su Swamp Thing Gunn e Safran nella conferenza stampa perché queste sono tutte informazioni extra real pubblicate da Gunn perché le testate avevano avuto l'opportunità di intervistare tanto Gunn quanto Safran che hanno aggiunto dei dettagli rispetto a quello che Gunn sintetizza nel reel e hanno detto che dopo la serie che faceva parte della wave di Titans di Doom Patrol eccetera hanno voluto cercare di riportare in auge il personaggio e che sarà una storia molto tetra cupa anche violenta in parte e probabilmente sarà ispirata al ciclo di Alan Moore che è bellissimo non so se avete mai letto per cui si pensa che sia ispirata stando le parole di Gunn e Safran a quel ciclo perché loro non hanno detto ci ispiriamo a quello ma da come hanno descritto il mood sembra proprio che potrebbero ispirarsi a quel ciclo anche perché hanno detto chiaramente che per Supergirl Woman of Tomorrow si ispirano al ciclo di Tom King tra l'altro per Supergirl è interessante il titolo Supergirl Woman of Tomorrow implica che ci sarà un'evoluzione di cara all'interno del film questi erano quindi i film che vogliono portare ma ci sono anche delle serie hanno annunciato una sola serie animata che è Creature Commandos tutta scritta da Gunn e avrà sette episodi è basata sul sul team di Casa DC che si chiama per appunto Creature Commandos e ha vari personaggi c'è anche dovrebbe esserci anche Weasel se non sbaglio e ha detto che chi cioè i membri di questo gruppo che hanno anche una controparte in nelle serie del passato saranno doppiati dagli stessi attori ad esempio Weasel avrà i versi credo di Sean Gunn ma c'è anche ad esempio il personaggio che c'è in Doom Patrol quello interpreta che ha la voce di Brendan Fraser quindi teoricamente in teoria dovrebbe avere la sua voce poi questa può essere interessante siccome è una serie animata sono anche curioso di vederla poi le altre sono tutte serie in live action Waller è una serie con protagonista Amanda Waller interpretata da Viola Davis che sarà un sequel diretto di Peacemaker che si collocherà tra la prima e la seconda stagione dello show e questa è inserita nel filone principale di questo chapter one quindi questo cosa vuol dire che Peacemaker è in questa continuity nonostante il reboot ma se Peacemaker è in questa continuity nonostante il reboot essendo collegato agli altri personaggi capito perché si crea confusione perché gli altri sono in questo universo è rebootato ma Peacemaker e questa cosa della Waller rimangono lì come se fossero gli unici a non essere stati rebootati non è che si sia capito bene perché non lo hanno spiegato bene crea un po' di confusione non si può negare questo e lei dovrà interagire con alcuni personaggi che ci sono nella serie di Peacemaker per cui le due cose si collegheranno e a me piace l'idea io adoro Peacemaker però ammetto che sono un filino confuso sul resto questo non si può negare poi serie su Booster Gold personaggio fantastico che sarà molto fedele ai fumetti e parla di questo ragazzo considerato un perdente che viaggia attraverso il tempo e cerca di diventare un supereroe usando delle tecnologie sofisticate e siccome Booster Gold spesso nei fumetti è associato a Blue Beetle può essere che boh può essere che magari anche Blue Beetle farà una capatina nella serie su Booster Gold ma queste sono supposizioni della stampa non c'è niente che faccia pensare che effettivamente sarà così è solo perché nei fumetti i due personaggi spesso si uniscono per combattere il crimine però non è detto che nella serie sia così una serie che sono molto curioso di vedere credo che sia l'evoluzione di quella che prima era Green Lantern Corps che doveva avere tre lanterne protagonisti protagoniste poi è stata ridimensionata dicevano che ci sarebbe stato solo Al Jordan e adesso è diventata Lanterns a quanto pare una serie con protagoniste le due lanterne principali Al Jordan e John Stewart che sarà ambientata per lo più sulla terra quindi nonostante i protagonisti siano due lanterne verdi non sarà una serie che avrà molto a che fare con la parte cosmica diciamo così e che sarà ispirata come mood al True Detective di HBO quindi una serie thriller con le due lanterne verdi investigativa in un certo senso questa cosa mi ha lasciato abbastanza interdetto mi ha lasciato abbastanza interdetto perché è molto diverso rispetto al concept originale ma l'idea di avere due lanterne verdi che investigano con un mood alla True Detective che è la principale fonte di ispirazione mi fa pensare beh io però una cosa del genere la vorrei vedere quantomeno sembra che stiano giocando con molti personaggi quindi ti buttano un superman e authority ti buttano Batman con Damian Wayne tratto dal ciclo di Grant Morrison ma poi ti buttano anche Supergirl and the one thing come serie ti mettono la Waller una serie animata ma poi booster gold e poi droppano le due lanterne verdi mi sembra che ci sia un filo conduttore cioè nel senso personaggi importanti e personaggi minori usiamo quelli importanti per far risaltare quelli minori io non sono così sfiduciato devo essere sincero è anche vero che non è la prima volta che ci presentano una line up che sembra interessante lo fecero anche molti anni fa e l'hanno rispettata fino a un certo punto e non hanno più saputo come fare a collegare i pezzi però ripeto se prima avevamo una gestione che continuava a cambiare fatta di persone che non sembravano avere idea di cosa effettivamente avessero in mano qui abbiamo un James Gunn che la materia la conosce molto bene e se Gunn e Safra hanno scelto certi personaggi forse perché hanno qualcosa da raccontare prima di dare per spacciato l'universo DC aspettiamo perché secondo me potrebbero esserci delle cose piuttosto interessanti poi altra serie Paradise Lost una serie che è prequel di Wonder Woman nel senso che si è prima della nascita di Diana il che non vuol dire che è prequel dei film di Patty Jenkins prequel nel senso che avviene prima della generazione di Wonder Woman proprio a livello biologico e sarà una sorta di serie alla Game of Thrones quindi un dramma politico ambientato per appunto sull'isola di Temishira questo è anche qui vediamo vediamo un po' com'è perché è abbastanza strana come come idea però io sono abbastanza fiducioso cioè io spero sinceramente che possano fare qualcosa di interessante perché queste 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 è proprio la prima parte diciamo del del capitolo 1 la prima metà ma poi ci dovrebbero essere anche altri progetti e si chiama Monsters and Gods perché effettivamente ci sono eroi con i poteri di dei ed eroi anche mostruosi come Swamp Thing ad esempio i Creature Commandos mi sembra che la dicitura il titolo rappresenti perfettamente questi personaggi ora Gunn ha parlato di interconnessioni non è che abbia spiegato se il modello è in stile Marvel Studios cioè con l'universo condiviso con i personaggi che hanno storie che si uniscono per ora sembrano personaggi abbastanza slegati tra di loro il che mi fa pensare che magari l'idea sia più quella che io ho sempre ventilato ovvero dire abbiamo questo universo abbiamo questi personaggi ogni tanto potrebbero interagire ma non cerchiamo di fare delle maxi storie sempre come fanno in Marvel diciamo che se c'è un momento in cui la DC può guadagnare terreno sulla Marvel è proprio questo perché in Marvel Studios Kevin Feige si è letto abbastanza preoccupato per il fatto che la fase 4 non abbia raggiunto certi risultati nessun film della fase 4 ha superato il miliardo se non Spider-Man Away On che però è di produzione Sony certo non avevano più la Cina adesso Ant-Man and the Wasp Quantumania e anche Black Panther Wakanda Forever usciranno in Cina quindi gli incassi potrebbero salire ma se c'è un momento in cui la Marvel è debole è proprio questo perché il pubblico inizia leggermente a stancarsi certo fanno ancora un sacco di soldi a botteghino per l'amor del cielo però io noto una certa stanchezza e l'hanno notata anche loro non è la prima volta che degli insider dicono in Marvel Studios sono preoccupati per quello che sta accadendo sembra che ci sia un minimo di interesse in calo però l'altro giorno Kevin Feige ha dichiarato che comunque i cinecomic per lui non moriranno mai non stancheranno mai ok ma siamo sicuri che la Marvel al cinema non venga noia per magari qualcosa di più fresco quello che vuole fare Gunn con Safran è proprio probabilmente l'idea di dare al pubblico qualcosa di nuovo e più fresco cosa che sta mancando da troppo tempo ai Marvel Studios poi Gunn è stato praticamente creato per quello che è adesso da Feige quindi non credo che lui voglia tirare un colpo basso a quello che è stato un po' il suo mentore semplicemente sta cercando di cogliere una grande opportunità che è quella di creare questo universo gli è anche stato chiesto se sotto la sua egide a quella di Safran gli attori che avranno comportamenti inopportuni verranno allontanati ad esempio lo sapete recentemente Zachary Levai ha scritto dei tweet che gli hanno dato dei problemi ha scritto un tweet rispondendo alla domanda di un altro utente con il profilo verificato che diceva faceva un sondaggio dicendo siete d'accordo o no Pfizer è un reale pericolo per il mondo e lui ha ricondiviso questo sondaggio scrivendo concordo moltissimo hardcore agree e la gente ha preso questa diciamo affermazione come un'affermazione Novax e quindi si è creata la polemica e soprattutto prima aveva diciamo collaborato con persone che sono famose per aver fatto delle sparate razziste e omofobe e lui ha detto beh però ognuno ha diritto di esprimere la sua opinione lo hanno attaccato sui social e quindi ci si chiedeva in questi giorni se lo avrebbero sostituito e James Gunn ha detto io non posso fermarmi in due per tre perché magari un attore scrive una cazzata o qualcosa di inopportuno prenderanno le loro conseguenze però non è che ci mettiamo ad allontanarli questa è stata un po' la sua posizione e lui ha detto che adora molto il film The Flash che quindi non vede l'ora che la gente lo veda che sarà per appunto ciò che ributerà l'universo come vedete le idee a me sembrano abbastanza chiare ho sentito gente dire boh sembrano una cozzaglia di roba non hanno le idee chiare per me invece le hanno chiare come perché se io vedo questi titoli da una parte possono sembrare personaggi che non c'entrano uno con l'altro invece io ci vedo uno schema personaggio grosso personaggio minore personaggio grosso personaggio minore alcuni personaggi grossi li mettiamo addirittura nelle serie una serie sulla Waller che è un personaggio che comunque c'era tanto nell'universo è l'unica che non ha mai cambiata che ha avuto tante apparizioni un po' la Nick Fury di quell'universo per voler fare proprio un paragone le lanterne verdi te le picchio in una serie non in un film ma facciamo un film su The Authority non sarebbe meglio fare un film su le lanterne verdi no perché così usi le lanterne verdi per fare da traino per quanto riguarda il medium televisivo non mi sembra una roba non studiata a me sembra che se lo siano studiato è come a me pare proprio che se lo siano studiato tantissimo è per questo che io dico prestiamo attenzione prestiamo attenzione perché secondo me non è una non stanno non stanno facendo le cose a caso poi il mio dubbio rimane quello sulla questione Elseworld è su quello il dubbio ce l'ho perché mi chiedo perché tenerli e dire se vogliono rimanere magari le recuperiamo più avanti perché comunque a parte la Waller in questa in questa prima parte dei personaggi vecchi non c'è traccia quindi per il momento li hanno accantonati è quello che aveva detto Dwayne Johnson non ci sarà spazio per Black Adam in questo primo capitolo magari più avanti con multiverso intendeva questo perché lui comunque Gunn ha detto Shazam alla fine faceva un po' parte di un universo a sé che poi non è vero perché comunque citano Batman citano Superman però è vero che è un po' a sé cioè se tu non conosci l'universo DC e guardi Shazam capisci tutto lo stesso perché tanto bene o male Superman e Batman sai chi sono quindi effettivamente è un po' a sé ma l'avevo detta anch'io questa cosa per cui lui dice magari recuperiamo più avanti perché questa cosa non l'ha detta nel reel ma l'ha detta alla stampa chi vuole rimanere rimane lui dice che addirittura vorrebbe fare la trilogia di Aquaman di Jason Momoa per cui ha detto che ogni personaggio ogni attore interpreterà comunque un solo personaggio per cui già l'ipotesi in lobo con Jason Momoa non credo che la vedremo e quindi Jason Momoa potrebbe rimanere come Aquaman e potremmo vedere il terzo film su Aquaman come Elseworld lui ha ventilato anche questa ipotesi per cui in realtà è quello che mi lascia un attimino interdetto magari quando hanno dei buchi e hanno bisogno di tempo per creare film dell'universo principale buttano degli stand-alone con i vecchi personaggi che senso ha? ma in realtà nessuno però se ci pensate gli stand-alone sono sempre esistiti se hai una buona idea vuoi usare un personaggio lo butti lì non è che per forza deve far parte dell'universo come nei Marvel Studios si può avere anche qualcosa di diverso il mio problema è che crei confusione ti viene da chiederti ma quindi Shazam è in quell'universo oppure no ma ripeto noi non sappiamo ancora con certezza cosa intendono per interconnessioni le interconnessioni possono anche essere semplicemente come nei fumetti che ogni tanto i personaggi collaborano ma non è che c'è la maxistoria come la maxisaga della multiversaga o la infinitasaga di Marvel Studios io credo che Gunn voglia esulare un pochino da quel modello non vuole copiare quel modello prende sicuramente ispirazione ma poi fa qualcosa di diverso e in quel senso potrebbe anche starci per quanto mi riguarda quindi non lo so onestamente sono molto fiducioso da una parte e un pochino perplesso dall'altra però per quanto riguarda i titoli annunciati per questa prima parte del chapter 1 sono molto contento perché secondo me c'è uno schema preciso che chi conosce un minimo Gunn può tranquillamente intravedere poi c'erano le ipotesi che lui si portasse dietro alcuni personali alcuni attori dei dei guardiani della galassia perché tanto da un po' di tempo gli attori della Marvel non hanno più la clausola di non concorrenza quindi possono partecipare anche a film di altri studios sui supereroi quindi alcuni dicono pensa se si portasse dietro a fare poi Mason Ivy Karen Gillan addirittura alcuni dicevano magari per Booster Gold e questi c'erano alcuni rumor per Booster Gold sceglie Chris Pratt io non credo io penso che lui magari qualche attore lo coinvolge per carità ma secondo me preferisce lavorare con attori nuovi per evitare di creare anche una certa confusione chissà il mio sogno bagnato sarebbe come il nuovo Lex Luthor Robert Downey Jr che adesso è anche rasato immaginatevi che pubblicità se l'attore conosciuto negli ultimi anni per aver interpretato Iron Man interpretasse uno dei cattivi più iconici in casa DC ovviamente questa è una cosa che sto dicendo io il mio desiderio non sappiamo neanche se ci sarà Lex Luthor in Superman Legacy non lo sappiamo vedremo vedremo però secondo me c'era parecchio da dire e ne diremo ancora in live più tardi quindi sono molto curioso però voglio sapere cosa ne pensate voi siete fiduciosi? vi sembra che questo piano sia effettivamente una cozzaglia di roba? ditemelo in un commento qui sotto io vi abbraccio vi ringrazio grazie benissimo tanto ma tanto ma tanto bene e noi ci vediamo al prossimo ciao a tutti grazie